La mattina ci è lamentato del fatto che mi avrei fatto andare a vedere troppo tardi. Non ho letto il messaggio che mi ha detto se è accaduto, scopriamo. La mattina, perché vi sono ammattie di l'aria e l'aria. Ammattia di l'aria? Ammattia di l'aria? Salte, salte. No, 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 salte. Salte, salte. E poi salte. Vai. Ma cambiamo il ammattia. E la porta. E poi salte. Passo, vai in avanti! Sì. C'era. No. Ho saltato con il tramicchio. Ho fatto questo. Via. Ah, è meglio questo. C'è che ti fai il pallone o il braccio? Non è, comunque. A che si fai il posto, è così. Che ora vissi? È così. No. No. Ja, non l'ai riuscita, non lo so. Grazie. 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 Grazie.